Che frasi ho detto e io vi risponderò perché le ho dette, anche se so che tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali, per normali intendo sani di mente, e tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo, è vero che l'Italia è piena di imbecilli, quindi io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole, che rivendico tutte una per una. Un uomo normale guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche, poi se ci riesce se la tromba anche, se poi non ci riesce invece torna a casa, ora offendetevi quanto cazzo volete. Ma questa è la mia idea, chiusa con la mia idea, potete farne quello che volete, ora voi dovete decidere se volete votare un emendamento sulla violenza di genere oppure no. Non è che dobbiamo stare qui a fare le indicazioni su cosa pensa un uomo e su cosa pensa una donna. Io penso quello che mi pare, non ho mai ammazzato nessuna donna, non ho picchiato nessuna donna e non mi risulta di avere avuto denunce da donne. Detto ciò, se volete fare qualcosa sulla violenza di genere, bene, se no l'alternativa popolare è libera di scegliere quello che vuole votare, io voterò contro questo emendamento perché a me voi non dovete insegnarvi nulla. Vergognatevi, vergognatevi che sei parte di questa violenza. Vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi di permettervi più di loro. Ego! Che fai di culo!